Ottenere il riconoscimento IGP, identificazione geografica protetta per la cosiddetta purassa o poraccia, ovvero la vongola pescata nel nostro tratto di mare, quello compreso nel compartimento marittimo di Pesaro, è ciò cui aspira l'organizzazione dei produttori autorizzati alla pesca delle vongole Camelea Gallina, che ha costituito un comitato promotore formato dall'Associazione Vongolai di Fano, la cooperativa Piccola Pesca Baldelli di Gabiccia e l'organizzazione dei produttori pesca di Fano, Marotta e Senigallia e dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica. Il comitato ha commissionato una serie di esami e studi scientifici al Dipartimento di Biologia e a quello di Economia dell'Università di Urbino per evidenziare le caratteristiche e le potenzialità della nostra vongola in confronto a quelle del nord e del sud adriatico. Ciò che è emerso dalle ricerche è stato illustrato i giorni scorsi in un incontro nella sala della Concordia del municipio di Fano, in cui erano presenti le amministrazioni comunali di Gabiccia e Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo e Senigallia, assieme a numerose associazioni del territorio. Perché arrivare in questo processo di valorizzazione della nostra vongola, aderendo alla denominazione IGP, significa valorizzare la pesca, significa valorizzare il lavoro del mare, delle persone che in questi anni ci hanno ovviamente lavorato, ma significa anche valorizzare la nostra gastronomia, quindi etichettare in modo specifico un prodotto, una grande valorizzazione del nostro territorio. Il Comune di Mondolfo, in particolare Comarotta, ha una flotta importante di imbarcazioni e di pescatori che attraverso il porto sia di Fano che di Senigallia sono attivi nella pesca della vongola, della venus gallina. Per noi è importante perché questo riconoscimento potrebbe dare un ulteriore valore ai prodotti del nostro mare e di conseguenza caratterizzare ancora di più la nostra zona sia a livello turistico che gastronomico. A sostegno dell'aspirazione dei vongolai sono stati illustrati nell'ambito dell'incontro i risultati ottenuti dallo studio del professor Fabio Musso, realizzato in collaborazione con la dottoressa Roberta Borgognoni e la professoressa Elena Viganò, che ha evidenziato la grande importanza economica del settore, mentre la ricerca del professor Mauro Magnani, in collaborazione con la professoressa Francesca Andreoli, si è focalizzata sull'identificazione dei marcatori molecolari per distinguere e caratterizzare gli esemplari di camelea gallina dell'areare del nord delle Marche. Dallo studio è emerso che questa specie di vongola resiste maggiormente agli stress a mare e alla carenza d'ossigeno. È una risorsa che vorremmo valorizzare, ha spiegato Tonino Giardini, presidente OPEF, Fano, Marotta e Senigallia. Procederemo andando a sottoporre il quesito per il riconoscimento IGP al Ministero delle Politiche Agricole. La vongola è un patrimonio non soltanto dei pescatori, ma anche un patrimonio del territorio. Oggi la cucina, il turismo gastronomico è un turismo importante. Noi abbiamo un patrimonio perché abbiamo le maggiori risorse a livello nazionale. Le nostre marinerie, sia dell'Anconitano che del Pesarese, producono fino a un massimo di 6.000 tonnellate di vongole all'anno e le esportiamo in mezza Europa, oltre che fornire le catene di supermercati. Quindi questa risorsa noi vorremmo valorizzare. Grazie Grazie